Inizia il podcast di Pinocchio, tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Bella! California Love, ma stai scherzando? Wey! 1996, Tupac, la gang di Pinocchio è pronta per una puntata sulle urgenze. E ne sono già arrivate, eh? Sì, sì. Come mi piace quella roba del menù fisso. No? La settimana di Pinocchio menù fisso è la grande svolta. Perché ci dà un ordine che non abbiamo nelle nostre vite. Come è vero. È l'unico ordine ufficiale che c'è. Sì. Cosa c'è questo gatto dentro il microfono? C'è un gatto nel microfono. Gatto. E' Uad! Bella Uad! In auto dentro un treno, oppure sopra un tram, con fiette nelle orecchie si ritorna alla maison. Cosa mangiamo a cena? Restiamo a bere al bar. Buonasera è cominciata. Chiudiamo la giornata. E' tempo di iniziare questo carinissimo, su bellissimo, squisitissimo shopping. Buonasera Diego! Buonasera Valentina! Buonasera! Buonasera Ciocca e buonasera Mary J! Olè! Dai, 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 dai! Ragazzi, per chi non è di Milano, non avete idea del macello che c'è in questa città per il salone del mobile? Ho già dei conti in sospeso col design, da tutta la vita! Ieri sera se non c'era Diego che mi portava in motorino fino a casa, non sarei mai tornato a casa! Velocità massima raggiunta 15! Aveva le mie unghie, che le sto portando lunghe, dentro la carne, qui nei fianchi. Al motto di, oddio, 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 non inclinare! No, si inclinava tipo Valentino Rossi in curva con il ginocchio fino all'asfalto. Valentina, guardami, c'era tutto bloccato, siamo andati al massimo a 15, secondo te? Però hai schivato le macchine, hai fatto quelle cose in marciapiedi. No, 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 guadagna il metro si chiama quell'anda lì, una roba da venire, però mi ha portato. Bravo, bravissimo. Buon anno, buono, io gli ho fatto molto male e gliene ho dette da qua fino là, che è dall'altra parte della città, quanto un cagnaccio. Cioè, prima di salire, stai andando troppo veloce! Sì, vai di piano, ma ero ancora a terra. Penso ora di arrivare dall'altra parte di Milano. Comunque, detto questo, in realtà abbiamo queste due ore per risolvere un po' di urgenze, si parla di niente, si parla di cose, come faccio a fare questo, faccio questo, faccio l'altro. Come pulisco, cosa mi metto, cosa mangio. Non lo faccio, non lo faccio, lo dico, non lo dico. Queste robe qua, cosa regalo, va tantissimo il cosa regalo. È un periodo di mattina. Comunque, l'idea è questa, se voi mandate i vocali, noi riusciamo a smistarne di più. Molto veloce. Se siete impossibilitati, va benissimo anche i messaggi iscritti. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17 e 14 minuti su Radio DJ, cominciamo con le urgenze. Sì, andiamo già un sacco di vocali, andiamo, dai. Ciao Pinocchi, urgenza, outfit da concerto con pioggia. Ah. Domani Cremonini e Lignano e io non so cosa mettermi, hanno previsto pioggia tutto il giorno. Eh. Ciao da Francesca. Guarda, se scende anche la temperatura, perché è cosa che succede con questi temporali, però se sei in pianura il QA è sufficiente. No, QA, ma no, per avere un look figo però immagino, quindi galosh, hot pants, la gente guarda, credibile, guarda lei. Vale, ma le galosh, no. Galosh, hot pants e QA. Le galosh tutto il giorno con sto caldo, Vale. Ma Vale, ma cosa dici? La sera rischia che ti tira delle maledizioni. Ho capito, però ci sarà tanto fango anche se piove tutto il giorno. Questo è vero. Attenzione. Ma metti una sneaker alta, una scarpa coca armato, non le galosh. Eh, però. E' Emily in Paris. No, sono Kate Moss. Galosh, hot pants, QA. Dai, hot pants. Sì, cazzo, ce li ricordi. Guarda, io per i concerti preferisco che la vado. Io ti appoggio, Vale. Ah, allora, è così. Urgente. Ignoro che mio figlio avrà il recupero di latino a settembre prenotto le ferie facendola a Gnorri. o aspetto che mi dicano cosa fare? No, cosa vuoi che ti dico? C'è nulla e prenotare a settembre che lui non c'è, c'è che si presenti al recupero. Ma tu prenota le tue ferie, tuo figlio tornerà a studiare. Ma sarai in un... No, ma lo porti, lo obblighi a studiare... Eh, basta. Ma sì, però fai in modo che a settembre... No, perché devi tornare per i recuperi, forse, capito? Perché sono a scuola i recuperi. Eh, li fai... Mi sembra se hai... Io guardo la Mary, sì, mi dice sì. Credo che il problema sia che devi tornare prima per fare i corsi di recupero prima di ricominciare la scuola. Eh, allora aspetta che ti dicano. Ma non puoi spedirlo? Cioè, la mamma fa le vacanze perché se le ha meritate... Eh, ma quanti anni ha? Se è minorenne, dopo chi sta? Vieni qui. Allora, io stavo a casa anche 15 giorni alle medie. Scusa, se fa latino, va al liceo e tornerà da solo? No. È che non c'è da fidarsi di questi ragazzi a casa da soli. Cosa vuoi che faccia? Sì, ma vabbè. Vabbè, io dico aspetta. Io quando avevo quell'età non c'era da fidarsi. Posso parlare per me. Io non mi sarei fidata di me, ma neanche da dire ti do le chiavi di casa. Io ce l'avevo in prima medie, anzi, forse sì. No, anch'io ce l'avevo, per questo ti dico che non c'è da fidarsi. Si implementare. Poi. Pinocchi, buonasera. Un consiglio. Mi piace molto il couscous, solitamente lo faccio con le verdure. Ti date altre idee per dirlo? Grazie. Prego. Se vi vedete in dei ciupiti d'acqua. Mamma, mamma. Pesce. Carne, ragù. Gamberi. Gamberi. Gamberi e sì, pollo, tofu. Cioè, dacci feta, feta e verdure, gamberi. Ah, beh, beh, un ragù di pesce buonissimo. Buonissimo. Allora, guarda. Anche di carne. Sia il couscous che la quinoa, fatta col sugo di pesce sgusciato, è una roba che ciao proprio. Madonna, ti ricordi, Riccione, che pentoloni, ma che buona. Ragazzi, per il mal di gola, latte cognac o latte miele o qualcos'altro? Latte cognac, nel dubbio. Anche secondo me. Ti dà una sventola, però. Senza latte, perché il latte fa generare il muco. Esatto, un latte vegetale e cognac. Tanto. Ciao, Pinocchi. Cosa mi metto venerdì che uno cena con le mie storiche amiche del liceo e non so cosa mettere. Figa. Sì, perché il focus è essere più figa di loro. E' chiaro, perché l'amicizia si fonda su quello. Perché fare le pizzate del liceo se non per rinfacciare alle altre che sei meno certa. Abiti costosi. Che non hai. Che non hai. L'amore. L'amore vedere noi come saremmo messi. No, però, figa, ma non fare quella che si capisce che... Cioè, il problema è quello, devi essere figa ma non troppo impernacchiata. Mm, mm, sì, è vero. Scusate, c'è una... Quindi scusami, fai conta dieci, fai nove. Sì. Sì. Comunque osa. Sì, sì. Per la pioggia, l'ignano al concerto dei Cremonini. Danno pioggia solo la mattina, eh. Allora posto. Ok, ok. Direi che ci fermiamo un attimo. Ah, no. Ultimo, dai. Matrimonio a previso. Cappello sì, cappello no. Allora, se non è un cappello da pescatore o un baseball cap, secondo me... Se non lo metti a matrimonio... Se non è, no. No, però dipende da che cappello. Cappello di lana? Cowboy, no. No. Eh, no. E' cappello di paglia, cioè, impernacchiato da matrimonio? Sì. Io apprezzerei. Certo. Anzi. No. Sì, sì, di brutto. Nel video il cappello lo porti e lo lasci in macchina. Me lo metterei alla festa della radio, io, di quei cappellini lì da caccia alla volpe, sai? Radio DJ, la trovi anche in podcast. Che bel balletto, Valentina. Mi piace? Mi piace? Molto ottanta, eh? Molto ottanta. Allora, andiamo con le urgenze. Sì. Dai. Ciao, Pinocchi. Tra una quindicina di giorni ho un battesimo. Sì. Sono invitato a un battesimo. Mamma, ragazzi. Giacca, cravatta e camicia classico, oppure coreana, pantaloni eleganti ma non troppo e sneakers. La seconda, dai. Coreana perché si sente che vuoi mettere. La vuoi mettere, perché poi, ragazzi, come siete matti delle coreane in sto periodo e non vi ci... Allora, noi consigliamo una roba e tanto voi vi mettete la coreana, tanto vale che vi mettete la coreana. Ma poi il battesimo non è che c'è. Non è che non andare, eh, al battesimo. Ma ormai è diventata una scusa per fare gli aperitivi. No, per mettere le coreane. E allora mettetevi le coreane e fate l'aperitivo. Ah, dai. Ciao, Pinocchioni. La mia vicina mi ha dato del passato di verdura perché ne ha fatto molto. Volevo farlo con dentro la pastina, ma non ho la pastina. Posso metterci dentro il bulgur? Madonna. Certo. Ma è buonissimo. O, in alternativa, puoi prendere gli spaghetti e spezzettarli. Sì, però il bulgur me lo cuoci a parte e poi lo aggiungi. Non lo fai cuocere nel passato, eh? Perché ti butta fuori l'amido e ti viene un pastrocchio. Tieni conto che il bulgur assorbe molto, per cui se il passato è bello denso... No, no, ma tu cuoci il bulgur a parte, poi lo sciacqui, cioè lo scoli, lo sciacqui, che si ferma la cottura e poi lo butti nel passato. Però a me succede a volte che calcolo una densità, una quantità di sugo, di liquido, diciamo, e il bulgur lo assorbe tanto e quindi ce ne vuole un po' di più. Perché se no... Un po' di più di liquido. Quindi devi allungare un po' il passato. È un pochettino. No, lasci il passato e fai meno bulgur. Eh, insomma, vai un po' a occhio. Comunque è buono. Buonissimo. Ciao ragazzi, sono il Biutre da Modena. Devo comprare una ciabatta aperta da uomo, non un sandalo, una ciabatta un po' sportiva, mezzo elegante, da portare al mare di sera. Di sera. Cosa mi consigliate? Non so cosa comprare. O è sportiva o è elegante. In tutti i casi è il tuo campo, Diego. Eh? Io avrei una risposta. Io avrei una risposta. La Clark ne fa di pazzesca. Sì? Cioè, sì, è un po' la ciabatta classica, però fatta in pelle. Anche da ragazza? No, no, non l'ho mai vista. L'ho vista da Semi e ho detto, ma no, no, è bello. O comunque la Birkestock, ragazzi, di pelle, classica, è bellissima. Birkestock sempre col pantalone lungo. Perché? No, no, certo. Perché il pantalone è corto, piede è scoperto. Sì. Pantalone è lungo, piede è scoperto. Altrimenti fa turista olandese. È la verità. Che cosa hai contro i turisti olandese? E salutiamo. Niente, ma lui voleva mettersi una cosa elegante. Se vuoi sembrare un turista olandese, figurati, io mi ci vesto quasi tutti i giorni. Però, per dire, ecco. Matrimonio 25 giugno. Vessito rosso, vestito blu? Io metto il blu. Eh, il blu va tanto. Io metto il blu. Il blu va tanto. Metti il blu. Però anche il rosso. Dipende dai tuoi colori. Oddio, rosso sta bene alle bionde. Io, ragazzi, mi volete ricordare di mettermi il rosso? Perché non ho niente di rosso. Mettiti il rosso. Grazie, Diego. Rinnovo il mio problema per Maria Pezzetta. Io ho un microonde molto, 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 molto incrostato. Che mi viene lavato da una vita. No, vergogna. Ho un microonde, non è proprio di casa mia, ma è di casa dei nonni e del mio fidanzato. E lo devo pulire, lo voglio pulire perché è una cosa inguardabile. Dentro, soprattutto dentro nella parte alta, è super appiccicoso. Cosa uso? Cosa si fanno i nonni con quel microonde? Ci metti l'acqua e l'aceto in un contenitore adatto al microonde. Ok? Quindi in un contenitore che può andare alla massima potenza per almeno 5 minuti. Cioè, e poi eventualmente ripetere, metti acqua e aceto e fai andare. Ci sono dei, come posso dire, dei barattolini fatti apposta online per il microonde e per la pulizia del microonde. Semplicemente perché? Perché sono fatti di una lega che può andare ad altissima temperatura senza creare danni. Dentro metti questa, si forma un vapore di acqua e aceto pazzesco e quello poi con calma lo... Capito? Lo devi? Cioè, devi passare la pezza poi. Si inumidisce tutto, passi la pezza, se vedi che non è bastato, ha ridanghede anche 10 minuti. Ok? Fai andare un bel po'. Alla massima potenza, cioè deve raggiungere una grande temperatura con dell'acqua, con del vapore. Però mi raccomando, il contenitore deve essere adatto al microonde. E poi quando apri subito vai, che è sotto caldo. Se no, ti posso dire, se è veramente messo male, ma per una questione anche di salute, con 50 euro ne prendi uno nuovo, secondo me. Eh sì. Cioè, dipende dalla situazione, però ti prego, te ne prego. Ciao ragazzi, cosa regalo mia moglie per i suoi 50 anni che compie venerdì? Pierangelo Danovara. Pierangelo. Pierangelo, però. Se vuoi aspettare venerdì all'ultimo momento. Allora a sto punto adesso gli prendi un anello. Eh, stavo dicendo anche io. Sai cosa? Ma beh, il diamante. Ti svegliami prima. Diamante. Ti dirò di più, uno per lei, uno per noi. No, anche perché ci avresti detto, lei è una così, lei è una cosà. No, proprio, è una roba di fare il compitino. E il compitino è anello. Amma. Amma. Ciao ragazzi, ho un'urgenza. Oddio. Molto urgenza. Molto urgenza. Eh. Sono entrata dalla parrucchiera e ho detto tagliami i capelli. Li avevo a metà schiena. Li ho alle spalle. Ok. E ora? Come faccio? Mi sono già pentito. Eh, niente, cosa devi fare? Io spero che non ci abbia lì. Secondo me è la metà. Cioè, o li fai allora corti alla mandibola, oppure aspetti. Legali. 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 Fai la coda e tienili così un attimo. Tanto la coda la facevi anche prima. Scusa, l'ultima velocissima. La leggo. Mio marito tosse secca, mio figlio tosse nervosa. Torno a casa o proseguo dritta per destinazione ignota? Vai, 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 vai. Accelera, accelera, accelera loro, lascia la pasta, vai. Questo è il podcast di Pinocchio, lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17.44 su Radio DJ. Allora, andiamo velocemente. Vado, vado, vado. Abbiamo poco tempo. Eh, allora, dai, parto subito. Figurati, basta un gioco. Ciao, Pinocchio, andiamo a finire la scuola e facciamo festa. Ciao, Pinocchio, sto andando dai miei genitori col mio bimbo perché stasera il mio compagno deve fare un po' di lavori dai suoceri, ma prima cena così si rilassa o lo metto subito all'opera a fare i lavori e dopo la cena? Prima lavori. Dai suoceri? Eh, prima fai i lavori e poi si gode la cena. Se fa la cena dopo è abitato. Non c'ha più voglia. Cioè, vi fa però con poco piacere. Fagli trovare un tappino di cortesia all'inizio. Bravo. Un pezzo di grana con una roca. Un bicchiere di vino e qualche consiglia da mangiare. Sì. D'appoggio mentre fai i lavoretti. Per dire ben tornato. Sì, sì, sì. Ciao DJ, Pinocchi, mi dovete aiutare. Cosa regare un bambino di due anni? Eppure mio nipote e mia cognata è una grandissima pigna. Aiutatemi. Io non ho capito il messaggio. Allora, lei chiede cosa regalare a suo nipote di due anni e non oltre particolare. Particolare e simpatia nei confronti di sua cognata. Qualcosa di molto ingombrante. O rumoroso, una batteria. O un cucciolo, scherzo. Il cucciolo era uno scherzo. No, una macchinina molto ingombrante. Due anni? Sì, sì. Eh, sì. Un triciclone. Sì. Con le ruote, quelle lì da... Come si chiamano? Quelle monster scar, con le ruote giganti. Non lo so, qua hai guardato Mary, lo saprà lei. Le giubbaghi. Se hai parlato di ruote, guardo la Mary. Se devo parlare di rossetti, parlo guardo te. Il quad. Il quad è enorme. Cioè, con le ruote, quelle là, le monsters. Sì. Oppure 24 cristalli. Eh, ma macchina radiocomandata ha due anni. Eh, vabbè, perché? Beh, aspetta che crescerà. Sì, 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 c'è col volantino. Eh? C'è col volantino. Questo non pare. No, no, lo vissano. Cioè, quelle dove il bambino sale e può guidare in casa. Sì, o radiocomandato. Cioè, che lui sale e qualcuno lo radiocomanda. Sì. Fai così, vai. Va bene questa. Ciao Pinocchi. Io sabato dovrei partire per andare al mare. Torno nel mio amato sud. Ma la mia bambina più piccola ha deciso di farsi venire una ricaduta di tonsillite. Quindi prende ancora l'antibiotico. E la più grande, adesso, oggi, l'ultimo giorno di scuola, si è beccata un po' di febbre, tosse e raffreddore. Cosa faccio? Eh, amore, febbre, tosse e raffreddore. Di sti tempi farei un tampone. Se non è, aspetta ancora due giorni, se non è covid, partite. La sirena è da noi. No, avviso tutti quelli che sono in macchina e si stanno girando a destra o a sinistra. La sirena è scesa alla lata. E, sì, si fa il tampone e poi parti. Sì, tanto non guidano le bambine. No, no, poi prende l'antibiotico, la prende e, cioè, come sta qui, sta là. No, infatti. Sul covid è un po' un altro discorso. Eh, sì, certo. E' che questa variante qua, almeno per quanto vi riguarda, ha i due giorni di sintomi e poi ti dice che sei positivo. Con tutto che sicuramente ha preso solo del freddo, ok? Urgenza tatuaggio. Voglio farmi un tatuaggio dedicato alle mie bambine con la riproduzione di una parte di un quadro di Klimt. Però devo scegliere dove e non lo so assolutamente. Ho già un tatuaggio sul fianco sinistro, uno dietro al collo e uno sulla parte del basso della gamba. Dove lo faccio? Allora... Io non ho capito la correlazione tra quale parte del quadro di Klimt e le tue bambine. E te lo dico io. No, le... Ah, questo non lo so. Però la parte del quadro di Klimt, immagino tu abbia identificato quale. Sì. E sulla base della fisionomia della parte che hai scelto, scegli la parte del corpo su cui farla. Perché è fondamentale che ci sia una correlazione tra la forma del tatu e la parte del corpo. Cioè, se la forma è allungata non la farei in uno spazio corto e rotondo. No, è che idealmente il tatuaggio lo fai in un punto in cui si può sviluppare bene. Non guardate me, che li ho sempre fatti solo perché fossero grossi e tamarri. Sì. E comunque il mio effetto l'ho ottenuto. Sì, sì, sì. Una cosa volevi? E l'hai avuto. Esatto. Brava. Ecco. Dopodiché però, se questa nuova generazione di persone che si tatua e che si tatua un certo tipo di cose è meglio che segua proprio... Eh, ma non si capisce che parte... Anche un tatuatore ti può, secondo me, ben consigliare se è un tatuatore bravo. È quello, però è un altro rischio. Eh, ho capito ragazzi. Dici che quattro, eh. Allora cosa faccio? Te lo faccio io? No. No, no. Non è il caso. Ciao, come si stirano le camicie partendo dalle maniche, partendo dal collo, a caso? Grazie Rita da Bergamo. Ciao. Ciao Rita. Amore Rita, dal collo. Si parte dal collo, poi fai quella parte che è dietro le spalle. Sì, che c'è la cucitura. Dove c'è la cucitura. Dove c'è il tessuto doppio. Che andrebbe infilato nell'asse della parte, diciamo, arrotondata. Dell'asse, esatto. Infili la camicia al contrario. Prima da una parte, poi dall'altra. Fatta quella, fai i polsini. Esatto. Fatti i polsini, tiri le maniche, fai le maniche, poi davanti e dietro. Dietro. Il dietro me lo tiri per fare la piega, eh, la pants. Urgenza. Vacanza in agosto con 54 gradi. Amsterdam o Irlanda? Cioè, i 54 gradi sono sia a Amsterdam che in Irlanda. Lui li ha previsti comunque. Però, Amsterdam è una città, Irlanda è un paese. C'è più scelta, vai. E comunque, mai che vada, è un po' più fresco di Amsterdam, evidentemente. Sì, molto fresco. Però, vuoi mettere anche l'Olanda, che vai in Olanda a Amsterdam e poi ti fai anche dei i molini, i tulipani. Eh, allora però. I tulipani agosto non lo so. Eh, Irlanda ad agosto, metti il maglione di lana, ce lo compri anche lì, perché poi compri quello tipico, però bello, eh. Mamma, ma come me lo metterei? Eh, vabbè, dai. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Allora, diciotto e zero sette. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao a tutti, oggi è una puntata sulle urgenze. Le vostre. Eh, allora. Mary, tu hai fatto quel post? Mi scrivi il numero sul monitor? Vi dico una roba. Vai. Però, sai che, è una cosa, come sempre, quando tengo tanto a una cosa, vado in confusione. No, fatti. No, però. Andiamo con calma. Andiamo con calma. Ok. Vado in confusione perché è una cosa a cui tengo tanto. Sì. è un progetto che seguo da tanti anni, insieme a Emiliano, che si chiama TOG, Together TOG, è un centro che c'è a Milano, che ospita bambini e bambine con patologie neurologiche gravissime. Allora, sono bambini e bambine che non possono guarire. Sono bambini e bambine che però possono essere portati a un livello che è il loro massimo. Di qualità di vita. Di qualità di vita, di possibilità. Cognitive, di comunicazione. Di possibilità. Sì, certo. Perché per ogni fragilità esiste un suo potenziale, ok? È un posto che io ho sempre un po' il pudore di parlarne perché ho sempre paura di scatenare quell'emozione che è l'emozione di poverini. E invece, detto proprio con il cuore, non è poverini un cazzo. Cioè, questa è un'opportunità che questo centro da loro, che è straordinaria, meravigliosa. E io che li frequento da tanti anni, ho visto come il lavoro fatto lì porti davvero dei cambiamenti. Io sono andata stamattina, sono andata a fare una visita insieme a Emy e a J-AX. Perché il 28 giugno J-AX parteciperà insieme a Fedez, che ha messo in piedi questo Love Me, che è questo concerto gratuito a Milano, è attivato un numero per dare gli sms solidali, ok? Però io prima di dirvi il numero, io vi vorrei veramente spiegare questo posto. E anche lo stesso J-AX stamattina, che partiva subito, cioè ha aderito immediatamente, con lui ha aderito una valanga di artisti. Una valanga, ok? Quindi è su una fiducia. Però, siccome noi facciamo ceriti da tanti anni, sono tanti anni che per un motivo, per una situazione, per un'occasione o per l'altra, ci siamo sempre molto prodigati, va bene? E ho capito che fondamentalmente questa cosa di donare due euro o quello che è, ok? Ognuno nelle sue possibilità dipende fondamentalmente dalla fiducia che hai e dalla credibilità che hai nella persona che te lo propone, ok? E a me questa roba un po' mi fa piacere perché sono contenta, perché io lo so che se vi dico fidatevi, questa è una cosa seria, le persone ci credono perché il rapporto che ci lega a chi ci ascolta è un rapporto fondato su cose profonde, a partire da che ridiamo delle stesse cose o che piangiamo delle stesse cose. Però il mio sogno è quello che le persone abbiano un senso di responsabilità verso quello che fanno, che non è quello che in questo momento per un motivo culturale esiste. Cioè, io sono contenta che vi fidate di me, ma vorrei che foste padroni della vostra iper gigantesca possibilità di fare del bene anche con poco, perché poi delle volte va sprecata. E invece quando ci sono le occasioni grandi, le occasioni forti, le occasioni vere, di protezione della fragilità, allora si è veramente forti. Quando dico, io credo che una città forte, un paese forte, una nazione forte, un pianeta forte, è forte nel momento in cui sa prendersi cura delle proprie fragilità. No, è proprio un metro di valutazione internazionale. Tu vedi il livello di civiltà di un popolo per come si occupa delle persone più fragili. Sì. È proprio così. Allora, questa fragilità non va presa e accudita come custodia, appunto. Questa fragilità deve essere portata al suo massimo potenziale. E quello che Tog fa è esattamente questo. Io frequento questo centro da tanto tempo e proprio stamattina, io ho visto Ambra, che è una bambina molto piccola, che l'ultima volta, che erano tre mesi fa, l'ho vista in carrozzina, oggi camminava. Questo centro cura 114 bambini e bambine con patologie gravissime gratuitamente e si regge solo su raccolte fondi private. Perché lo Stato, per questi bambini e bambine che si presentano con delle diagnosi gravissime, hanno diritto, in qualche modo, a delle cure che sono una volta a settimana, una volta al mese. Che è troppo poco. Che è troppo poco. Però questo è così. Questo funziona così. Certo. Funziona così. Allora, qual è il mio sogno? Il sogno è che questo posto, che ha trovato una nuova sede e che può raddoppiare i bambini e le bambine ospiti, e di cui mi sentirete parlare molto spesso... Cioè, scusami, vuol dire che ci sarà spazio per altrettanti? Esatto. Bambini e bambini che gratuitamente potranno essere... Se adesso sono 114, diventeranno fino a 300. Ma non solo. I bambini e le bambine di Tog, che adesso magari frequentano il centro da 10 anni, hanno raggiunto un'età per la quale a un certo punto finisce questo trattamento. La possibilità di continuare a seguirli. Quindi in un'età più adulta e non perdere tutto il lavoro fatto. Ecco, queste secondo me sono le operazioni nelle quali, siccome io vado personalmente e conosco personalmente chi lo gestisce, chi ci lavora, quali sono i bambini, quali sono le bambine, quali sono le mamme, quali sono i papà, quali sono i terapeuti che lavorano là tutti i giorni facendosi un mazzo così e con la non serenità di sapere che ci sono dei fondi affinché questo lavoro possa procedere il mese prossimo. Allora, bisogna che il popolo di Pinocchio si senta talmente forte da poter cambiare le cose. Questa è una cosa che nessuno ti dà mai la sensazione. puoi fare un televoto, puoi fare... Questo è il senso di potere che ci danno l'idea di poter avere. In realtà un sms di 2 euro al numero 45595 è diverso. Cioè, veramente stiamo facendo qualcosa che cambia la vita a qualcuno. Quindi 45595. Poi in maniera diretta? Diretta. Cioè, quei 2 euro lì che tu dai arrivano là. Tra l'altro, siccome magari c'è qualcuno... Allora, questo sms, il 45595, puoi donare 2 euro da sms. Oppure chiamando da rete fissa 5-10 euro. Ma se ci fosse all'ascolto qualcuno che vuole donare di più, abbiamo messo anche un link per andare direttamente sul sito di Tog e fare una donazione. A me quello che è il mio sogno è che nella nuova sede ci sia una stanza di riabilitazione per questi bambini e queste bambine intitolata Pinocchio. Io sono abituata a sognare in grande, ma sono anche abituata a avere a che fare con persone che mi sorprendono sempre. Sorprendeteci. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora, 18 e 17, grazie. Sono arrivati un sacco di messaggi. Il numero di cui stavamo parlando è il 45595. Trovate tutte le indicazioni sull'account di Pinocchio DJ. Anche il link per fare donazioni eventualmente più importanti, ma l'idea che il popolo di Pinocchio, che non conta mai una cippa di niente nella vita, perché si è ammessi come si è ammessi ragazzi, siamo onesti con noi stessi, quando si mette insieme per fare una roba ce la fa. E siccome io sono convinta che insieme, tutti insieme, perché individualmente, onestamente, abbiamo tutti, magari anche dei pregi, però si è ammessi veramente tutto. Cioè, non è che proprio cambiamo la vita di qualcuno, ma messi tutti insieme, ragazzi, gli facciamo un culo così, ok? Quindi trovate tutto nell'account di Pinocchio. Adesso appena ho un secondo posto anche nel mio, ma magari se avete voglia anche Diego e Valle, condividere. Lo facciamo, ci credo, ci credo, mi piace crederci, mi piace svegliarmi la mattina e crederci. Questo è. Detto questo, andiamo avanti con le urgenze. La mia prima, Valentina Taranai, sì di brutto. Ma questo comunque non è una indicazione nuova, eh? Ah, me lo so chi è, mi sono fatta la domanda e mi sono data la risposta. Ma non c'era nessuna urgenza. Oggi ho visto il video, oggi ho visto il video, pazza, pazza adolescenziale, sì. Vado avanti con gli altri. Ah, ma quindi c'è anche della freschezza, della rinnovato entusiasmo. Lo si ama da Sanremo. Oggi vedendo il video ho detto, ok, sei tu, sei tu il mio nuovo Orkovi. Ti confermo, ti confermo. Sei tu, uomo, sei tu. Pinocchi, urgenza. Mese prossimo trasloco. Devo fare le scatole. Eh. Butto tanta roba? Sì. Sì. Sì, amico. Sì, sì. Ok. Butta. Butta. Pinocchi, buonasera. Matrimonio in Puglia fra un paio di settimane. Cravatta o senza? Senza. Ma però è matrimonio. Senza. Ho capito, ma in Puglia fa caldo. Eh, senza. Però non in costume. No. Capito? Neanche camicia troppo scollacciata. Coreana. Camicia coreana. Ciao Pinocchi, per conto di mia figlia, tredicenne, sabato sera, festa di terza media. Indosserà un tubino nero, un vestito svasato oppure gonnellina con top. Ma festa di sera? In terza media? Sì. Un tubino nero in terza media. Un tubino nero. Ragazzi, la vale in terza media. Sì, aspetta figli. Due cesse, forse peggio di oggi, perché oggi c'è... Io gonnellina è top. Hai la capacità di gestire. Gonnellina è top io, tra le tre. La seconda non me la ricordo, però. Volete risentirla? Sì, sì. Vorrei. Indosserà un tubino nero, un vestito svasato oppure gonnellina con top? Il vestito svasato? Io sarei per il vestito svasato. Sono confuso dall'entusiasmo della mamma per la festa della figlia. Capito? Cioè, è più adatto alla sua età, secondo me. Più contenta la mamma che va. Non capisco. Eh, sono confuso. Lo so, lo so. Non ti so rispondere, sorella. Mi spiace. Va bene. Ciao Pinocchi, ma matrimonio sabato in chiesa, ma con questo caldo vale ancora coprirsi le spalle in chiesa? Eh beh. Amore, sì. Grazie del consiglio. Credo, eh. Sì. Allora, io matrimonio sabato... Cioè, sbracciata magari, scusami. Eh, io ho matrimonio sabato e ho un braccio lungo, cioè una manica lunga. Un braccio coperto. Un braccio coperto, cioè una manica lunga. Manica destra lunga fino al forzo. E di là monospalla. Manica sinistra non c'è e scollo, scollo, non scollatissima. Però, diciamo che il capezzolo sinistro è a un centimetro dal... Non male che non è il mio matrimonio. E cosa mi metto? Ma poi è cortissimo. È corto. E cosa metto? Ma comunque se è veramente... E cosa metto? Uno scialle? Uno scialle? Sì, una stola, una roba. Ma lunga però. Una palandrana. Ma dai, scusami. Ma io te lo devo venire a dire. Ma è spasato comunque. Ma cosa c'entra? Ma è corto a metà coscia. Ma poi mai? Ma poi mai? Non si può entrare. Io adesso non voglio parlare di cose che non so. Non si può entrare, no. Però? Eh, però, insomma. Già che io. Però la scosumatezza. Però una manica è lunga. E cosa c'entra? Ma se sei pronta tutta. È un seno di fuori, però. Allora. Una manica è lunga. C'è un cane di oltre. Ecco, allora. Vado avanti. Non sono scioccati. Allora, io sono matizzati. La mando alla festa di fine anno in una discoteca, in un pub? Sì o no? Allora, un pub non è una discoteca. Quanti anni? Quindici. Sì. Andala. Eh, anche perché se nulla fai andare sarà peggio per te. Ah, ma ci sono sempre comunque, cioè puoi anche decidere che hai un certo orario, la vai a prendere. Beh, certo. Ah, ma certo. La mandi e ciò che appunto arrivi. Eh. A prendere. Polpettine di carne al limone, al forno o in padella? Ah, io la faccio al microonde. Io forno. Buonissima, con la scorza anche. Cioè, trita? No, faccio la polpettina, le polpettine. Scorta dentro, scorza sopra. Faccio la polpettina, che è già pronta, ok? Di carne, senza niente. Solo carne di pollo. Solo carne? Sì. Un po' di pangrattato. Carne bio, di pollo. Un po' di cipolla. Sì, ma un sale, pepe. Niente. Un prestevolo. Niente. 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 Succo del limone e scorza del limone. Va nel microonde, sei minuti alla massima potenza. Mamma mia. Buonissima. Buonissima. Fai padella. Io forno, direi. Vabbè, oh. Vabbè. Facci sapere. Tre cose. Tre cose, sì. Tanto polpettina di carne. Ah no, è sempre lei. Ciao, Pinocchi. Fammi di polpettina. Allora, ho iniziato la dieta, praticamente ho invertito i pasti mezzogiorno-sera. pasta a mezzogiorno e carne con verdure, insomma, in seconda la sera, eliminando il pane, mangio i vasa, 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 integrali. Qualche altro consiglio? Perché è un po' di pancetta. Parca. Non ditemi di andare a camminare. Ciao. Eh, allora. Ma cos'è che? Perché gli aveva messo la pasta la sera? Beh, comunque ha invertito l'ordine, ha ridotto il pane, cioè ha eliminato il pane. Cioè, i consigli nutrizionali sarebbe sempre meglio farseli dare da una persona che è capace. Non posso dirti, perché magari rispetto al tuo sovrappeso ci sono anche delle altre questioni legate, eh. Non andare a camminare. Fai una cosa, fai le rampe di scala del tuo palazzo una volta al giorno. Se sono quattro piani fai su e giù, una volta. Ok. Una volta sola. Sai che piuttosto cammino due ore. Ma ti metti un... non vuoi camminare, ti metti un podcast, vai su e giù, dai. Mamma Diego, comunque i podcast. Eh, ma così ti passa il tempo. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand. Dove vuoi, quando vuoi. Beh, ma vale a toccare le macchie con queste. Vale a battere le mani. Puoi rifare il disegno? La puoi rimettere dall'inizio? No, ma dall'inizio la so. Scusa, ma questo è cin cin karate. E quindi questo non è un dopo. Adesso, qua la so. Eh, mi scaldavo. Sto scaldando. Vada bene. E qua, e qua, e qua. Qua, qua, qua. Lento, però, va. Scusa, vedo un attimo. Ti posso chiedere di farla bene? Sì, 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 perché me l'ho fatta male le mani. Scusa, ma senza niente, è ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, riesci, no? Vai. Che ha fatto? Oh! Brava! Fatto. Fatto. Esatto. A un certo punto, doveva delle mani in aria, ragazzi. Buonchigato le mani. Eh, era un po' un Franz e un po' un Simon Sa. Ma poi ha fatto, no, ma, ha fatto cin cin karate con le mani, però. L'avevi capito, però, sono riuscita a suonarla bene. Brava. Quello, rintolato. Brava. Torniamo sulle urgiate. Sì. Scusate, allora, ufficialmente, link in bio sul Pinocchio DJ account Instagram per le donazioni importanti, quelli che vogliono donare più di cinque o dieci o due euro. Mentre per donare due euro da SMS oppure da linea fissa, cinque o dieci euro, quattro, cinque, cinque, nove, cinque. Stiamo parlando di TOG, ok? Ne abbiamo parlato poco fa. Sì. Torneremo a parlarne nei prossimi giorni. Sì, insomma, è un posto che conosciamo, siamo venuti anche noi, eh. Sì. Abbiamo visto da vicino. Un posto importante. Via. Ciao Pinocchi. Quesito difficile. La mia collega mi ha letto dal mio pc tramite whatsapp web le mie chat. Porca. Cosa faccio? Eh, che devi fare? L'affronti? Ma, eh, erano tanti, allora, potrebbero essere compromettenti o no ed è una cosa. Dal tono però lo capiamo, risentiamolo. Eh. Ciao Pinocchi. Quesito difficile. La mia collega mi ha letto dal mio pc tramite whatsapp web le mie chat. Cosa faccio? Non ti dico cosa succedeva in radio quando trovavano degli account aperti. Eh, no, certo. No, vabbè. No, però il discorso è questo. Cioè, al di là di, non credo che tu abbia da nascondere degli omicidi o altro che non è legale. Ok? Capito quello che voglio dire? Sì, sì, sì. Cioè, tu non hai questioni in valore. Date una risposta a voi perché io non so. Brava, ma ferma. No, io ti affronto con... No, ti affronto proprio. Cioè, tu cosa vuoi? Sì. Cosa? Caspita, vuoi? Non vuoi da me. Sì. Dai fatti miei. Come l'hai saputo? Eh, ci sono un sacco di variabili che non conosciamo. Come l'hai saputo? L'hai scoperto, cosa c'era scoperto. Quindi saprai che ti detesto? Saprai dalle mie chat che sei una cretina? Almeno questo lo posso dire, Diego. Sì. Questo sì. Vada avanti. Perché se non l'hai trovata ti segnalo io la chat dove ho detto che tu sei una cretina. Io gli direi così. Pubblica flag. C'è qualcuno in piedi. Qualcuno in piedi. Vada avanti. No, qualcuno se ne è andato. Però quando in piedi... È rimasto qui. Troppo sensibile. Ha avuto paura. È uscito. Questa è un attimo. Scusami. No, no, no. Che buona. Dai. Ciao ragazzi. Matrimonio il 25 giugno e mia cugina. Cosa regalo? Soldi. 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 È la cosa più utile in questo periodo. Poi guarda, non sbagli. Ma certo. Ma comunque. Che sia una piccola cifra, una grande cifra. Soldi. Soldi. E via. Buonasera Pinocchi. Ho tre settimane di tempo per finalizzare il racconto. Regalo di laurea per mia figlia. E là? 25 anni. Lingue. Ha studiato prevalentemente francese. Eh. Te lo sei detto da solo. Viaggio. Viaggio in Francia. A parte che hai usato la parola finalizzare e o amare. Perché dietro questa parola c'è un progetto. C'è un Excel. C'è un progetto. C'è un'intenzione strutturata. No, ma c'è proprio un approccio alla vita. Allora. Come dire, efficiente. Efficiente. C'è un'organizzazione che parte prima. C'è un'organizzazione che parte prima. Quindi o Parigi e basta, secondo le tue possibilità, o piccolo giro. Perché magari c'è una che studia lingue e Parigi è la cosa più scontata. Quindi. Pensa a un bel viaggio là. Se no. Sì, però la conosce lui. Per cui magari non è stata mai a Parigi. Parti da Parigi. Poi dopo. Sì, magari per lei è amica o amico. Non con i gittori. Cioè, la conosce lui. È sua figlia. Quando mai conosci veramente i tuoi figli? Cioè, queste robe qua. Buono viaggio. Buono viaggio. Buono viaggio. Per due. Per la Francia. Senza te. Senza sua parte. Binocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi. Quando vuoi. Diciotto e quarantasei. Radio DJ. Ancora un po' di urgenza. Sì. Non ci resta molto ma diamo il nostro meglio. Via. Dai. Ragazzi, emergenza. Sono incinta alla seconda gravidanza. E rispetto alla prima gravidanza in cui la pancia non si è vista fino al quinto mese. Adesso sono alla fine del quarto e ho già una pancia praticamente enorme rispetto alla scorsa. Mm. E non mi sento tanto a mio agio. Che faccio? Uso vestiti che nascondono un po'? O faccio il contrario, metto tutto aderente, evidenzio proprio per contrastare questa cosa? Fatemi sapere. Non so perché onestamente manifesto un sincero disagio. Cioè sei incinta. Sì. E la seconda è una fisicità con la quale non si sa rapportare perché la prima se l'è portata. Sì ma una fisicità non data da che hai mangiato, hai fatto dieta e c'è sei incinta amore. Cioè secondo me non è che è necessario esibire. Cioè sei tu. No ma lei dice nascondo o propongo. Ma perché proporre? Ma perché nascondere? È ancora peggio. Cioè nel senso. Posso dirti? Vestiti comoda. Comoda come chissà. Comoda. Funzionale a questo tuo momento fisico. Cioè devi essere concentrata sul fatto di essere. Ma te lo dicono tre che non sono mai stati incontri. No infatti. Con ogni probabilità. No però in certi momenti con delle burigie addoni. Per quanto mi riguarda eh. Abbiamo tutti ancora delle speranze sulla madre. Ma raga ho 45 anni ormai. Ma oddio. C'è gente che. Sì sì sì. No no certo. Anche le carano anche di oggi. Una signora ha partorito a 58 anni. Ragazze. Io a un certo punto. No su di me non fate le rispettative. No. Io potrei sorprendervi. Oddio Diego. Sarebbe bello. Vado avanti. Ciao Pinocchi. Oggi è il compleanno della mia ragazza. E io e la sua migliore amica senza saperlo. Abbiamo fatto lo stesso regalo. No. La stessa bottiglia di gin. Soltanto con due tipologie diverse. Una a limone e una a pompelmo. Va bene o devo fare un regalo all'ultimo minuto? Siete un gruppo ben assortito. Sì magari un fiorellino e o un biglietto. Un biglietto dai. O un mazzo di fiori bello. 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 Non di sole rose rosse. Bello. Pensato. È un biglietto. Ti amo. Già fatto. Cosa regalo al mio compagno per la nascita della nostra bimba che avverrà il primo luglio. Idee. Madonna ragazzi. Buono per la piscina da fare insieme alla piccola. Oppure sto a una cosa più sul personale tipo un paio di occhiali da sole. Grazie. Ah no allora. Un regalo. Mi piace l'idea di dare un regalo anche a lui. L'idea perché anche lui ci ha messo nel suo. Allora dipende quanto lui ha piacere di fare le lezioni di nuoto. Di nuoto. Perché quella è stupenda. Ma è bellissima. Ma se è uno che non gliene frega. Allora gli occhiali vi aspetta a bordo piscina. Io su questa cosa mi espongo questa roba di regalare tipo l'anello che è una roba di vanità. Cioè sono due cose slegate. Invece siccome è la celebrazione di aver fatto più la piscina. Anche se ho fatto le lezioni di nuoto con mio nipote Leone che tra poco mi aspetta qui sotto. Che adesso è grande e buono. È buonissimo. È buonissimo e ha vent'anni. Per cui come dire. Ma me lo ricordo l'ho portato a fare. È bellissimo. Quella roba le lezioni di nuoto è una roba che va... Io farei un figlio per portarlo alle lezioni di nuoto. Poi però non avrei più pazienza di fare altre. Ma il resto del tempo lo lasciamo a Mary J? Fallo. Brava. Oppure venite a fare nuoto con me. Binocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi. Quando vuoi. A chi va Diego? A Miriam che ci ha scritto. Io non ho proprio idea di come gestire la prova costruzione di questo snasso. Non sei sola. E allora Miriam. Che carina. Un costume bikini o intero. Una borsa a spiaggia in spugna. Un telomare. Un kimono della linea Beach. Sun 68. Olè. Grazie ragazzi. Ci sentiamo domani. Domani si canta e si canta tutto a tema latino e spagnolo. Oddio non me lo l'ho. Oddio. A domani. Ciao. Binocchio. Sonna domani alle 17. Sono su Radio DJ. Binocchio.